Sono molto solo, non terribilmente solo, perché io amo essere solo. Ho bisogno di essere solo, per contemplare, per pensare. A volte mi danno noia perfino le persone che amo, mia figlia, mia moglie. E quando accade, zitto zitto, mi alzo e vado in camera mia. Sì, è difficile vivere con me. Questo è un rimprovero che le mie compagne mi hanno sempre rivolto, che all'inizio mi rivolgeva anche Franca. Ora Franca mi si è assuefatta. Trova questa vita normale, sebbene sia giovanissima. Pensi, ha solo trentadue anni. Prima, invece... La capivo, sa. Capivo che le sarebbe piaciuto andare nei posti, nei night. Ma a me non piace, non è mai piaciuto. Io, quando vedo quel divertimento falso, non posso fare a meno di... pensare che dietro a ciascuna di quelle persone... Beh, è un dramma. Il pianista, magari, ha le scarpe rotte. L'industriale, ha le cambiali che scadono. L'entrenese, ha il figlio ammalato. Gliel'ho detto. Sono un misantropo. La base della mia vita è la casa. La casa, per me, è una fortezza, quasi una persona. Quando vi entro, la saluto sempre, come una persona. Buonasera, casa. Oggi, per esempio, Franca è a Lugano. E in casa sono solo. Beh, ci sto benissimo. Sì, è molto difficile vivere con me. Eppure, matrimoni a parte, non ho mai fatto lo scapolo. Sì, è molto difficile.